Riprendo il campionato di Serie A, secondo te chi vincerà lo scudetto? Spero l'Inter, visto che ti fa l'Inter. L'Inter li vedo bene attrezzati e siamo molto fiduciosi, siamo molto fiduciosi. Consideri che io non indovino un pronostico da 20 anni, per cui l'Inter, vedo bene l'Inter. La Roma ha buone possibilità o no? Secondo me sì, più dell'Inter di sicuro. A quest'anno nessuno ci crede, ma l'Inter va molto su. Il mercato l'ha convinta? Ma il mercato è tutto ancora aperto, comunque sì, la favorita probabilmente è ancora la Juve, però l'Inter farà parte per salire, speriamo, ai primi tre posti. Quindi la sua risposta è un po' dettata dal cuore? Molto cuore, molto cuore nera azzurro. Io sono convintissimo che o Allegri riesce a fare una Juve, che riesce ad amalgamarla bene, però io non vedo male una squadra che è compatta, che è la Lazio, che non ha cambiato tantissimo, che ha fatto il suo campionato con un allenatore valido. Se vuole un pronostico sicuro, il Milan, perché sono milanista da 70 anni. Quindi solo per una questione di cuore, dice Milan? Sì, e di simpatia anche per la società che adesso sta cambiando e poi so che ha fatto una campagna acquisti molto importante e mi auguro che finalmente torni in Milan di un tempo. Non ne ho idea. Juve. Perché? Perché l'avvento l'anno scorso si è rinforzata, anche se ha ceduto tre giocatori importanti. Penso che quest'anno sia un po' aperto a quasi tutte. L'unica cosa che capisco è che hanno incominciato a spendere tanti soldi. Speriamo che abbiano portato dentro dei campioni e non dei finti campioni. Sicuramente la Juventus, perché è la più forte di tutti. Cos'ha la Juventus in più rispetto alle altre squadre? La classe, l'organizzazione, la serietà e l'impegno, mentre gli altri sono meno bravi.